Dal vostro centro di equilibrio, la voce interiore attraversa Roberta S. a cura di Vubbi, guide. Allora fate pure le vostre domande perché le nostre parole servono in un certo senso a dare quella luce che credete mancare nella vostra mente. Domanda Più volte ci avete parlato dei rapporti che la nostra mente ha con la nostra anima tramite il nostro spirito. Noi comprendiamo il concetto vagamente, ma non riusciamo a comprendere bene come tramite la mente possiamo arrivare alla nostra anima. Guide Non si tratta di arrivare alla vostra anima tramite la mente. Ma di mettervi in linea e di ritrovare la vostra serenità e il vostro equilibrio globale. Perché tutto il resto fa parte della vostra natura. Perché voi per natura siete fatti di anima, mente, spirito e anche di altri elementi che non vi stiamo ad alincare ma che conoscete benissimo. Allora, tutto ciò che vi appartiene, che fa parte del vostro procedere, funge come strumento per rendere la vostra esistenza sempre più consapevole. Quindi, se avete un pensiero che vi allontana dal vostro vero essere, vi ritroverete poi a sentirvi soli, a sentirvi pesanti e a sentire il peso della sofferenza. Vi diciamo che ogni vostra sofferenza è dovuta ad un distacco da quello che siete veramente, dal vostro centro di equilibrio. Allora, per remediare a quella sofferenza, non soffermatevi troppo sull'oggetto che credete essere la causa principale della sofferenza. Piuttosto centrate il vostro argomento principale su quello che state facendo voi e su quello che state sentendo voi, su quello che siete ora. Da lì potete tirar fuori molto, molto di più. Questo non deve essere per voi un tentativo di essere qualcosa di diverso da quello che siete ora. Perché vi diciamo pure che così come state facendo, come vi state dedicando al vostro percorso spirituale, va benissimo ed è perfetto. È un qualcosa che rallegra i vostri cuori. E i cuori di chi vi guarda dà altre dimensioni. Allora non sentitevi sbagliati e non pensate che state sbagliando tutto solo perché alcune volte vi confondete o avvertite quel senso di sofferenza. Piuttosto ricordatevi che solo la vostra concentrazione può darvi quelle capacità che cercate e può rendere la vostra esistenza del tutto consapevole. Anche questa concentrazione però non deve essere un peso, un qualcosa che dovete riuscire a fare. Noi vi diciamo che già siete concentrati perché già siete liberi di pensare, di essere, di comportarvi come ritenete più opportuno. Dunque, perché vi preoccupate e perché ci chiedete se state andando bene? Siate sereni sotto ogni punto di vista perché state andando proprio bene, proprio come vorreste andare.